Come si faceva una volta, per esempio, una volta era assolutamente disperito. Quando il battitore iniziava il gioco, doveva pronunciare alta voce, Bala, Bala, no? Come da dire, a razza che batto. Adesso questi qui se ne battono, battono e non fanno questo pronunciamento, hai capito? E io ritengo che invece questa cosa vada mantenuta.